Alla fine tutto bene per il baule Occhiobello che riesce a spuntarla sul preganziol per 3 a 1. Le ragazze di Pantaleoni portano a casa punti importanti in chiave salvezza ma con una certa fatica ed un bel po' di errori. Eppure il primo set si era messo subito bene per le padrone di casa capaci di portarsi sul 9 a 3. Poi si è fatto sotto preganziol grazie a qualche errore di troppo del baule fino a raggiungere il meno 3. Nuova accelerata dei Cristofori e compagni per il definitivo 25 a 18. Partita in discesa dunque per nulla perché il secondo set consente alle ospiti di riportare la gara in parità. Va subito avanti la squadra di Pantaleoni ma poi tra errori e forse anche un po' di paura di farsi sfuggire la ghiotta occasione di incrementare i punti in classifica le gialloniere perdono in lucidità e consentono al preganziol prima di superarle e poi di aggiudicarsi il set 25 a 18. Il terzo set sembra confermare che le padrone di casa non riescono ad esprimere il loro gioco così che dopo un avvio 8 allenanti si ritrovano sotto di 5 punti 14 a 19. Ma è proprio questo il momento della svolta. Il baule ritrova in un colpo solo grinta, determinazione e concentrazione e raggiunge le avversarie sul 21 pari e stacca il biglietto del terzo set sul 25 a 23. A quel punto ci si poteva aspettare un quarto set senza patemi ma apri il pubblico c'è stato ancora da soffrire. Le tre vigiane infatti hanno allungato in avvio ed il parziale di 6 a 1 non lasciava sperare nulla di buono. Salvo che in una serata da batticuore Valentina Vanzi e Tosi ben coadiuvate da tutta la squadra hanno deciso che la partita andava vinta e così è stato. 25 a 16 il risultato finale del set per il 3 a 1 finale che ha fatto davvero tirare un sospiro di sollievo a squadra, allenatore, società e pubblico.